Pochi giorni è uno degli appuntamenti più attesi dai pesaresi ed evento di richiamo per i visitatori di tutto il centro Italia. Dal 10 al 12 settembre torna, tra conferme e novità, la fiera di San Nicola, un'occasione per fare un pieno di shopping, buon cibo e divertimento. Finalmente la fiera di San Nicola, che è una realtà costante nel tempo e rappresenta la storia, torna senza limitazioni. Grande partecipazione perché 550 espositori saranno presenti dal 10 al 12 settembre, quindi tre giorni di fiera molto importanti, dedicati al commercio, all'artigianato, alla produzione locale, accompagneranno i cittadini e tutti coloro che verranno nella nostra città a vivere questo momento. Finalmente sono sparite le limitazioni delle distanze, degli ingressi, ritorneranno anche gli eventi dedicati ai più piccoli, tutti i pomeriggi, la domenica mattina e anche il pre-fiera in Piazza della Repubblica venerdì precedente, quindi il giorno precedente. Quindi un ritorno alla normalità con grande energia, grande carica e anche grande gioia direi. Un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale, alle forze dell'ordine che ci accompagneranno come sempre perché la sicurezza è sempre il primo posto. Gli ambulanti verranno dislocati in Viale Trieste, Viale Trento, Piazzale D'Annunzio, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi e Via Paterni, con migliaia di prodotti di ogni genere per tutte le tasche. Dieci i produttori e venditori di alimenti tipici delle Marche e delle altre regioni che profumeranno Piazzale della Libertà. Tanti anche gli stand della Via dei Sapori, Via Sanzio, dedicata all'eccellenza a chilometro zero e ai prodotti non gastronomici del territorio. Saranno 23 invece gli espositori di artigianato e curiosità posizionati in Viale Da Vinci. Tra le proposte anche le opere dell'ingegno e degli artisti che presentano le loro creazioni in Viale Dante Alighieri, mentre i punti di sosta e ristoro si alterneranno in Piazzale della Libertà, D'Annunzio e nei giardini di Viale Zara. A restituire al pubblico i valori che la fiera di San Nicola porta con sé è il liceo artistico Mengaroni che ne ha realizzato un'immagine. La novità di quest'anno è l'introduzione dell'area spettacolo per i bambini con il coordinamento di Piazzaro Village che allestirà un'area di intrattenimento sui giardini di Piazzale della Libertà tutti i pomeriggi 16.30-19.30 e anche domenica mattina. La conferma dell'area del mercatino di bambini sempre nei giardini di Piazzale della Libertà che sicuramente è meglio coniuga l'esigenza dei bambini, quindi del gioco con la fiera di San Nicola anche come spazio e come tipologia e la possibilità di usufruire del parcheggio di Villa Marina che è un'area a sosta da 160 posti attrezzata grazie al comune di Pesaro, proprio ai margini della fiera che sicuramente aiuterà anche in termini di viabilità per la fiera. Da quest'anno è possibile lasciare il veicolo anche nel posteggio Grande Torino nell'area del McDonald's in cui sono presenti 250 posti auto. È un nuovo parcheggio scambiatore che sarà collegato alla fiera da una navetta gratuita attiva sabato e domenica dalle 18 alle 23. Passerà ogni 30 minuti. Possibilità di sosta in questo caso a pagamento anche al Curvone aperto H24 e al Marsala aperto dalle 7.30 all'1. È confermata la navetta dal San Decenzio. Abbiamo confermato il piano viabilità degli scorsi anni diciamo cercando sempre ogni volta di limarlo e migliorarlo. Sono già tre anni che ormai abbiamo dedicato il Viale Battisti ai residenti, ai turisti e agli espositori, vietando proprio la circolazione. Questo ha favorito un po', diciamo ha snellito la viabilità perché altrimenti si creava questa lunga colonna di mezzi che poi in realtà non trovavano parcheggio in zona e allo stesso tempo credo abbia tranquillizzato i residenti perché effettivamente hanno un lungo serbatoio di Viale Battisti tra via Mascagni e via Fiume e appunto riservato a solo determinate categorie di utenti. Il punto di riferimento diciamo ormai da cui partono anche i propri servizi delle forze dell'ordine è quello di via Zara Trieste dove c'è un gazebo che gestiamo come polizia locale che è punto anche di informazioni ma soprattutto di riferimento per eventuali problematiche e anche bambini che si perdono o piccoli furti che potrebbero succedere, insomma ci sono sempre dei nostri operatori in quella postazione. Più un servizio sia interno che esterno dedicato alla viabilità.